Balconi, logge, portici, terrazze. A causa della loro posizione esposta, tutte queste strutture sono particolarmente soggette alle condizioni atmosferiche. Gli assestamenti della struttura architettonica dovuti agli sbalzi termici devono essere tenuti in considerazione con la stessa precisione con cui si garantisce la protezione della costruzione in calce, struzzo e metallo. Requisiti altrettanto elevati vengono posti anche sul fronte della geometria delle superfici da impermeabilizzare. Ad esempio, la resistenza a varie sollecitazioni meccaniche su superfici altamente frequentate o a sollecitazioni puntuali particolarmente elevate da parte di mobili da giardino. Con i suoi sistemi di impermeabilizzazione e rivestimento, Triflex offre soluzioni sicure sia per balconi che per portici in grandi complessi residenziali. Triflex BTSP è un sistema impermeabilizzante specifico per balconi con un superamento delle fessure dinamico, crack bridging dinamico ed una resistenza ottimale alle sollecitazioni meccaniche. Prima dell'applicazione dell'impermeabilizzante, tutte le superfici devono essere pretrattate. Per prima cosa il sottofondo deve essere solido e stabile. Le superfici metalliche devono essere irruvidite e pulite. Superfici con sottofondi in mattonelle, calcestruzzo o asfalto devono essere trattate meccanicamente. Calcestruzzo, soletta e altri sottofondi assorbenti devono essere trattati con Triflex Cruel Prima 276. Applicare anzitutto il Prima pronto per essere miscelato su tutti gli elementi costruttivi e dettagli sporgenti formando uno strato sottile. Successivamente il Prima viene applicato sulla superficie. La superficie con Prima applicato è resistente alla pioggia dopo circa 25 minuti. Per la successiva fase di lavorazione occorre attendere circa 45 minuti. Il Prima non deve essere applicato sulle superfici metalliche. Nella fase successiva si passa all'impermeabilizzazione di tutte le alzatine, le smusature e dei dettagli con Triflex Pro Detail. La miscela pronta per la lavorazione di Triflex Pro Detail e il catalizzatore vengono stesi in quantità abbondante. Il ritaglio di tessuto non tessuto viene collocato sulla resina fresca evitando la formazione di bolle d'aria e quindi ricoperto con un abbondante strato di copertura di resina. In tal modo si ottengono dettagli di collegamento ben definiti, impermeabilizzati senza saldature né giunzioni. Una volta terminati i collegamenti ai dettagli si passa all'impermeabilizzazione delle superfici con Triflex Pro Terra. Triflex Pro terra è omologato con marchio CE e dispone del benestare tecnico europeo ETA. Il materiale viene steso abbondantemente sulla superficie e il tessuto non tessuto collocato evitando la formazione di bolle d'aria. Anche in questo caso la lavorazione avviene bagnato su bagnato con applicazione a rullo immediata di uno strato di copertura con Triflex Pro Terra. Dopo appena 30 minuti Triflex Pro Terra sarà resistente alla pioggia e dopo un'ora sarà pronto per la lavorazione successiva. I tempi di indurimento brevi consentono una lavorazione rapida e offrono sicurezza all'operatore anche in caso di tempo variabile. Triflex Pro Terra può essere utilizzato anche con temperature prossime al punto di congelamento, un vantaggio essenziale durante la stagione fredda. Con l'impermeabilizzazione combinata di dettagli e superficie si ottiene una superficie omogenea e protetta con le infiltrazioni in quanto completamente alderente al sottofondo. L'acqua piovana non potrà pertanto farsi strada al di sotto dello strato impermeabilizzante. La complessa applicazione di profili di protezione nell'area di collegamento alla parete non risolta quindi più necessaria. Come strato di usura viene applicata sulla superficie impermeabilizzata la malta autolivellante altamente resistente alle sollecitazioni meccaniche Triflex Krul RS 233. La miscela tipo malta per la lavorazione viene versata sulla superficie estesa uniformemente con la cazzuola di posa o una racla di pavimento. Infine il rivestimento ancora fresco viene livellato con il cilindro a ponte in direzione incrociata. Nell'ultima fase di lavorazione la terrazza rivestita viene sigillata con Triflex Krul Finish 205. La sigillatura della superficie viene realizzata a colori per aumentare la resistenza chimica e meccanica del sistema. In primo luogo vengono trattate con il prodotto di finitura tutte le superfici verticali. Nella sigillatura ancora fresca vengono soffiati con una pistola a spruzzo con imbuto i Triflex microchips. In seguito il prodotto di finitura viene applicato sulla superficie con un rollo di lama e la sigillatura fresca viene nuovamente cosparsa con i microchips. La superficie sigillata è resistente alla pioggia già dopo 30 minuti e dopo due ore la terrazza è di nuovo resistente alle sollecitazioni. Per migliorare l'estetica delle grandi superfici è possibile combinare in via opzionale diversi colori di finitura con motivi ornamentali. La sigillatura è disponibile in varie tonalità di colore. Per grandi progetti di costruzione possono essere altresì realizzati colori speciali su commissione. La resina impermeabilizzante indurita forma una superficie perfettamente liscia priva di saldature e giunzioni. Perfino dettagli complicati vengono isolati in modo omogeneo grazie alla tecnica di lavorazione liquida. Grazie alla ridotta altezza di costruzione del sistema impermeabilizzante di soli 4-5 mm è possibile realizzare risanamenti senza problemi anche su superfici con altezze di collegamento limitate. Essendo il materiale applicato a freddo senza fiamma ciò contribuisce alla salvaguardia di elementi a rischio come i telai delle porte in legno. Con una grammatura inferiore a 10 kg per metro quadro il sistema impermeabilizzante per balconi è adatto sia per l'impiego in costruzioni nuove che per risanamenti senza alcuna conseguenza negativa sulla statica. Questo consente di risparmiare tempo e costi di demolizione. Le fasi di lavorazione mostrate in questo filmato possono essere eseguite con i componenti del sistema sviluppati e armonizzati tra loro da triflex nell'arco di una sola giornata. Le superfici risanate potranno così essere riutilizzate dai residenti dopo un brevissimo periodo. Un vantaggio davvero notevole per i portici densamente frequentati. Il tutto si traduce in vantaggi concreti per tecnici applicatori, committenti e inquilini. I sistemi triflex devono essere posati esclusivamente da specialisti formati e certificati. Ciò garantisce un'elevata qualità del prodotto, della consulenza e dell'esecuzione delle fasi di lavorazione. Triflex vi offre una soluzione impermeabilizzante che dura nel tempo. Investite su Triflex per una sicurezza nel minimo dettaglio. Investite su Triflex per una sicurezza nel minimo dettaglio.